Sindaco, il dato di questo lunedì, ma comunque di queste elezioni regionali, è che ancora una volta le persone si allontanano dal mondo della politica. Lei che adesso è sindaco, secondo lei che lavoro dovrete fare in questi anni per avvicinare i giovani, visto che il dato è ancora più alarmante che la fascia d'età, 20-40 anni, è quella che è andato o meno a votare. Certo, bisogna ricostruire il rapporto con l'elettorato, in particolare con i giovani che mostrano un totale distacco e disinteresse, non dico dalla politica, ma proprio dalla vita quotidiana di chi è chiamato a prendere delle decisioni anche nel loro interesse. Ecco, ma secondo lei ci sono delle vie percorribili per far questo, se sia anche in tempi brevi, perché davvero, Sanremo è andato al voto quattro mesi fa e più o meno si era ritrovata la stessa situazione. C'è una strada davvero percorribile? Io penso che occorra interessare i nostri giovani coinvolgendoli di più nella vita amministrativa e soprattutto fornendo anche una proposta culturale, perché io credo che i giovani, se stimolati, se tolti dall'uso, dall'utilizzo frenetico e ossessivo dei telefoni cellulari, che diciamo così hanno azzerato praticamente il rapporto anche tra di loro, io penso che i giovani, se stimolati correttamente, debbano necessariamente e vorranno inevitabilmente essere degli attori protagonisti della vita della nostra città.